Si fa drammatica la carenza idrica a vasto, soprattutto per coloro che devono lavorare in questi giorni di ferragosto, allora per i ristoratori è difficilissimo. Drammatica la situazione, drammatica perché non riusciamo a lavorare, non riusciamo ad accogliere tutte le persone che passano, che sono in più in questo periodo e non solo. Io stamattina mi sono trovata nella sgradita situazione di mandare via almeno 20 persone e quelle poche che sono riuscite a far accomodare le ho dovute mettere davanti a un bivio, o usate il bagno o vi faccio mangiare. Questo da quanto tempo sta succedendo? Un po' di giorni ma sono mesi che comunque hanno una potenza minima le condutte eridriche e noi ne soffriamo tantissimo. A luglio come si è lavorato? Male, molto male, grazie. Perché? Perché sempre per i soliti discorsi, insomma poca acqua e disagi, oggi mi sono vergognata di fare questo lavoro perché mi sono trovata a dover mettere le persone in una condizione o di andare al bagno o di mangiare. Cosa hanno detto i clienti? Hanno compreso la situazione, sono stati veramente molto tenere, però comunque c'è una disperazione, rassegnazione no, però disperazione sì. Il problema della mancanza d'acqua, signor Maurizio è titolare sulla loggia ambling di una pizzeria, a voi come va? Guardi, purtroppo ci troviamo ogni tanto, anzi diciamo spesso, a avere dei problemi riguardo l'acqua perché viene staccata in maniera frequente. Noi riusciamo a tamponare il nostro fabbisogno perché abbiamo diverse cisterne dentro i locali, però dobbiamo comunque ottimizzare il consumo. È una situazione che purtroppo si ripete ormai da diversi anni. Noi sappiamo che la colpa non è né nel Comune né della Sassi perché comunque c'è purtroppo impianto idrico che da quello che si dice è piuttosto danneggiato. L'unica cosa che credo si dovrà prendere presto dei provvedimenti appunto perché è una situazione che non può andare avanti perché i ristoranti sono tanti a vasto e l'acqua purtroppo deve bastare a tutti. Situazione insomma difficile ad agosto? Abbastanza difficile perché tra parentesi senza acqua non si possono neanche dare i servizi igienici quindi ci troviamo davvero nei pasticci.